E' una situazione quella della Villa Comunale, lei spesso ha annunciato che ci saranno opere di riqualifica, anche fondi che le ha chiesto per il verde. Sulla Villa Comunale stiamo facendo, le inchieste sono su tutto, come vedete. La Villa Comunale noi abbiamo interesse a che stia in condizioni migliori, ci abbiamo messo risorse economiche nel piano strategico della città metropolitana, ma non ci interessa solamente vedere una Villa migliorata, una Villa ristrutturata con migliori alberi, ma anche meglio sorvegliata, meglio gestita e meglio curata. E in questo l'assessore Borrillo sta facendo un lavoro importante anche con le associazioni, con i comitati, con i cittadini, in modo da creare anche qui una partecipitosa tra amministrazione, municipalità, associazioni, comitati e cittadini.